E proprio di sicurezza sui cantieri e contrasto al lavoro nero si è discusso a Salerno con un accordo firmato in prefettura da associazioni professionali, sindacati, enti previdenziali e forze dell'ordine. Andrea Siano. Una piattaforma digitale per gestire i cantieri edili pubblici e privati, ma anche controlli puntuali, laddove si realizzano opere a rischio o in contesti sensibili. Sono le basi su cui si fonda l'accordo sottoscritto in prefettura a Salerno per garantire trasparenza e legalità in edilizia, uno dei settori che beneficerà delle politiche espansive e delle risorse del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Noi andiamo appunto a fare una regia di questo sistema dei controlli per evitare che ci sia concorrenza sreale e per garantire anche la sicurezza sui cantieri che è un aspetto fondamentale. L'intesa coinvolge ASL, IMSS, INAIL, forze dell'ordine, costruttori, associazioni professionali, comuni e sindacati. Questo oltre a tutelare e a scongiurare il lavoro nero, a tutelare il lavoro corretto, è anche una forma di censimento che finalmente in provincia di Salerno prende forma. La Cassedile avrà tramite anche tutti gli attori impegnati, i direttori lavori, i committenti, i comuni, la regione, conoscerà subito quali sono i cantieri aperti, quindi ci sarà la possibilità di verificare se ci sono le regolari denunce in Cassedile per gli operai.